L'irriverente del giornalista Franco Genzale, nell'arco di sei mesi, ha girato l'Irpinia. Mille copie vendute, così come sperava il direttore di Irpinia TV, e in terro ricavato dalla vendita dei volumi consegnato alla Caritas di Ocesi di Avellino. 15.000 euro, la somma che l'autore ha affidato nelle mani del vescovo Arturo Aiello, è destinata in beneficenza alle necessità di una bambina ucraina di sei mesi, orfana del padre, deceduto o in guerra. La mamma e la piccola sono profughe in Irpinia. La cerimonia di consegna del ricavato, nella sala convegni Polo Giovani di Via Morelli e Silvati ad Avellino, con la partecipazione del vescovo, del prefetto, del direttore della Caritas. Questa iniziativa è segno di speranza, ha detto Monsignor Aiello. Il Natale è di suo apertura, quindi uno sguardo rivolto a tutti, in particolare ai più bisognosi. Oggi questa fascia si è allargata, quindi questa iniziativa e questo dono, cui assistiamo stasera, è un segno, un fiore in questo Natale che ci dà speranza. L'annuncio degli angeli a Bethlehem è gloria a Dio e pace in terra. Ne abbiamo sempre bisogno, ma in questo tempo in modo tutto speciale. Non solo per la guerra che ci tiene più in apprezzione, perché è vicino a noi, ma anche alla Siria. Altre nazioni che vivono il disagio, anche se non sono sulle prime pagine dei giornali. Poi c'è quella guerra quotidiana, anche metropolitana, di piccole e grandi violenze che pure rientrano in un piano negativo al quale dobbiamo far fronte con il bene. Cioè è il bene che vince l'odio, la violenza, la guerra.